C'è quanto abbiamo raccolto? Com'è? Va bene, ok, perfetto. Ancora un attimo, stiamo andando molto bene. E lo diciamo alla fine di questa prossima canzone. Io la vorrei cantare, questa canzone. Ci sono dei bambini che mi aiutano, che vengono sul palco, facciamo una festa con i bambini. Perché nella piazza, nella piazza, è giusto coinvolgere anche la gente, soprattutto i bambini che aspettano la festa ogni anno con ansia. I bambini sono i veri protagonisti della festa paesana. Io mi ricordo quando ero piccolo nel mio paese, aspettavo la festa qua a Gloria, proprio tutti gli anni arrivava la festa a Ponticino. E io ero contento, felice. Guarda quanti bambini che vengono. Questo è un momento il più bello dello spettacolo. Quando nello spettacolo, dal vivo, si può veramente toccare con mano anche la gente che è venuta a trovarci. Perché una cosa sono le canzoni e una cosa meravigliosa invece è il contatto diretto con questi bambini. Venite tutti, adesso vengono tutti i bambini. Avvicinatevi, amore, amore, avvicinatevi qua. Stringiamoci, stringiamoci. Anche tu. Ecco, ecco, non costringeteli a venire che poi vengono traumatizzati a vita, eh. Se i bambini, no, non ci voglio andare! Vai giù! Eh, ci siamo? Allora, guardate, tutti quanti, facciamo un giro veloce. Un giro velocissimo e chiediamo... Quando inviti i bambini succede sempre così. Ma, ma che meravigliosa, è la loro festa, lo ripeto. Allora, diciamo un po' di nomi. Cristiano. Quanti chiami tu? Sara. Foran. Serena. Ave. Agnese. Commaso. Roberto. E a qui te? Beatrice. Irene. Daniele. Cristina. Mirko. Michela. Alessandro. Serena. Eliscia. Ilaria. Elisa. Smattina. Smattina! Evviva la più piccina, Mattina! Samuel. Elisa. Elisa, piccolina, amorosa. Eliscia. Riccardo. Vieni qua davanti tu, che non ti si vede, sennò come ti chiami? Mattia. Mattia. Letizia. Lorenzo. Roberto. Allora, bambini, avete capito? Io vi ho chiamato per ballare e cantare tutti insieme una canzone che ha fatto il giro del mondo e che è dedicata a voi, perché sono sicuro che voi siete tutti appassionati di un prodotto alimentare italiano famoso del mondo, che non è la pizza, che non sono gli spaghetti. Ma è il giro del cioccolato! E' bravo! Il giro del cioccolato di Pupo è unico al mondo, mai! Gustavo.